Oggi è quanto mai centrale il ruolo che la formazione ha nel rendere i giovani consapevoli delle conseguenze legate ai cambiamenti climatici e nel fornire loro gli strumenti necessari non solo a comprenderne la portata, ma anche a contrastarne i processi. L'Istituto Calvi di Belluno, attraverso la rete internazionale UNESCO di cui fa parte, è stato selezionato tra dieci scuole in tutta Italia per partecipare ad un convegno tenutosi a Roccapietore, in cui sono stati condivisi i dati di un progetto di monitoraggio dei ghiacciai. Capofila dell'iniziativa nazionale è l'Associazione Macromicro che, insieme alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, ha realizzato il progetto sulle tracce dei ghiacciai. Per ora ci stiamo dedicando a dieci scuole, dieci licei, istituti tecnici di tutta Italia. Questo ci permette di raccontare appunto i temi degli effetti dei cambiamenti climatici attraverso due metodologie, quindi la fotografia e la scienza, attraverso delle campagne, delle spedizioni con cui abbiamo prodotto delle fotografie di confronto e quindi uniamo l'aspetto estetico e emozionale delle fotografie, dei confronti fotografici, dei ghiacciai come erano a fine Ottocento e come sono oggi, per raccontare in maniera emozionale quelli che sono gli effetti dei cambiamenti e soprattutto le trasformazioni del paesaggio, soprattutto alle nuove generazioni. I ghiacciai alpini stanno raccontando in modo chiaro ciò che sta accadendo al clima del pianeta. I ghiacciai ci stanno raccontando col loro ritiro sempre più marcato, soprattutto negli ultimi trent'anni, come il clima stia cambiando in modo molto molto rapido, soprattutto nelle Alpi, oltre che nella zona artica. Le Alpi sono un hot spot climatico, abbiamo già guadagnato due gradi dall'epoca preindustriale e abbiamo già perso più della metà del ghiaccio che avevamo un secolo e mezzo fa. Abbiamo visto una fortissima accelerazione dei ritmi di arretramento dei ghiacciai negli ultimi trent'anni con il picco che abbiamo purtroppo vissuto proprio negli ultimi due anni, 2022-2023 da soli, per esempio sui ghiacciai svizzere, hanno fatto perdere il 10% del ghiaccio residuo in soli due anni. Abbiamo visto valore di fusione, di perdita di spessore di ghiaccio mai visti prima nelle nostre serie di dati di misure. Grazie. Grazie. Grazie.